Se hai sempre sognato di aprire il tuo nail center, il primo passo è il corso regionale pionico-tecnica. Il corso ha una durata di 200 ore, delle quali 75 di laboratorio pratico in aula. In omaggio con il corso avrai un kit per le esercitazioni pratiche e un master fresa della durata di 9 ore. Contattaci per avere ulteriori informazioni sul nostro corso. Grazie per la visione!